Sono Roberto Ruzzi e Gianni Pagliazzi, membri del nuovo gruppo consigliare moderati e riformisti per Arezzo. Il gruppo è nato dopo l'uscita di Ruzzi dalla Lega Nord. Vi confluisce ora anche Pagliazzi, che abbandona il PDL. Sì, era una scelta che comunque per me dolorosa, per il semplice motivo che sono stato anche rappresentante di Forza Italia qui ad Arezzo, poi nel PDL ho avuto comunque ruoli anche di partito. Oggi però il PDL non esiste più. Con Roberto abbiamo condiviso tante battaglie, mi sembrava anche giusto portare avanti un certo tipo di politica diversa e per il territorio molto più propositiva di quella che abbiamo fatto fino ad adesso. E sulle accuse di essere una possibile stampella alla maggioranza, la risposta non si fa attendere. Noi rimaniamo all'opposizione, faremo delle battaglie ma faremo anche delle proposte. Vediamo poi dopo la maggioranza come si può nei nostri confronti. Oggi credo che abbiano un problema anche di numeri, ma è un problema del PD che si deve risolvere da solo e non credo che basti Luigi Scatizzi di turno per risolverlo. Vediamo quello che la maggioranza ha in atto per vedere di cambiare questa città che negli ultimi mesi è veramente fermissima. Abbiamo fatto una bella promozione, spero che arrivi almeno un paio di figure. Per noi sarebbe molto importante perché la sicurezza, la sicurezza stradale, il degrado delle periferie, questo per noi è molto importante. Quindi non smetteremo di fare interrogazioni, ma saremo più propositivi nei confronti della città con atti di indirizzo corredate del progetto.